In arrivo il giovane portiere classe 2001, Niccolò Chiorra dall'Empoli. Lo scorso anno è stato alla Taranto, ben 34 presenze in campionato, una in Coppa Italia. Un ottimo prospetto, c'è già l'accordo con il club toscano, appunto con l'Empoli per il prestito secco. Si giocherà il posto con Sommariva, Chiorra è un prodotto del vivaio della Fiorentina, anche due panchine in Serie A contro Roma e Bologna nel campionato 2019-2020. Quindi il trasferimento nella finestra invernale del 2021 a Grosseto in Serie C, tre presenze. A fine campionato la Fiorentina però non ci ha creduto, lo ha liberato, l'Empoli ne ha approfittato. L'estate di un anno fa l'ha girato in prestito al Taranto, l'ultimo campionato da protagonista nelle fila della squadra di La Terza, che sarà il prossimo allenatore del Monopoli. Per quanto riguarda invece le altre trattative, tutto a posto per Milani, il laterale Mancino del 2001, arriva dalla Pontevera a titolo definitivo, manca solo l'annuncio, così come per l'accessione di De Marchi al Padova. Tutto rimandato invece lunedì prossimo per lo scambio Lescano-Clemenza con Lentella, ma siamo ai dettagli. Con della latta del Padova si lavora per trovare l'intesa sull'ingaggio. Delicari aspetta la risposta di Maiorino, classe 89, non più giovanissimo, 10 gol con la Virtus Francavilla. È stato proposto dal club biancazzurro a Maiorino un anno con opzioni. Elisalde all'independiente, club prestigioso argentino. Tra l'altro il Pegnarol, Paolo, non ha esercitato l'opzione di riscatto, ne aveva la facoltà. Ha prevalso la volontà di Edgar Elisalde, classe 2000, che dunque indosserà il prossimo anno la maglia di questo club prestigioso argentino, l'independiente. Il Delfino incasserà circa 600 mila euro e conserva il 5% sulla futura rivendita. L'operazione col Monza sarà ufficializzata nei prossimi giorni. La maxi-operazione che ha portato Sorrentino al Monza per circa un milione di euro, il giovane portiere classe 2002. Dal Monza arriveranno naturalmente a titolo definitivo sia Sommariva, il portiere del 97, che Lombardi, giovane centrocampista del 2002, mentre in prestito secco il difensore centrale, ma anche schermo davanti alla difesa, il greco Siatunis. C'è anche da aggiungere che il Pescara ieri ha incontrato la Roma per parlare di un giocatore che interessa non poco, Salvatore Pezzella, il regista che ha militato nella Siena lo scorso anno. La strada è in discesa. Si sta lavorando per il prestito con diritto di riscatto. È chiaro che il Pescara vuole patrimonializzare e punta sul 50% sulla rivendita futura. È una sorta di comproprietà che non esiste più, però c'è l'escamotage, come è successo per Pompetti, tra Inter e Pescara. Queste sono le notizie in nostro possesso. L'ultima cosa riguarda Cuppone, Cuppone ex Potenza, ex Casertana nel mirino di Dellicarri, ma è di proprietà del Cittadella. Ebbene, bisogna trovare ancora la quadra col Club Veneto per definire le modalità del trasferimento. Il Pescara punta sul prestito con obbligo di riscatto di questo attaccante classe 97, obbligo di riscatto in caso di promozione del Delfino in Serie B. Vedremo.